Grazie a tutti Sono contento perché si sono divertiti Il torneo è perfetto, vedo un'organizzazione perfetta, il campo è idilliaco, i ragazzi sono fantastici, bene, 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 ogni anno migliorano sempre di più, si meritano i complimenti, si meritano di continuare in questo modo perché è difficile nelle nostre zone organizzare un torneo del genere che è arrivato a 32 squadre, e beh, complimenti, complimenti veramente